La videocamera di sorveglianza P&E House IP2DOM può essere controllata da dispositivi mobili tramite l'applicazione XMI, compatibile con Android e iOS, e dal PC tramite l'applicazione General CMS. Il file di installazione del software si trova sul CD incluso nella confezione oppure si può scaricare dalla sezione Download sulla pagina del prodotto sul sito www.pni.ro. P&E House IP2DOM ha lenti varifocali di 2.8-12 mm che permettono l'impostazione del zoom e del focus. La videocamera si può accedere direttamente tramite connessione P2P, senza la necessità di configurare il router, semplicemente inserendo il nome utente e la password. Avrà così accesso facile alle funzioni della videocamera. I 36 LED ad infrarosso permettono alla videocamera di riprendere delle immagini anche in condizione di luce scarsa su una distanza di fino a 30 metri. Le immagini prese dalla videocamera possono essere registrate su un PC, a meno che ci sia una connessione ad Internet, oppure su un NVR, a meno che questo abbia installato all'interno un HDD impostato su lettura-scrittura. Nel caso in cui utilizzate la videocamera in modalità stand-alone, raccomandiamo l'uso di un alimentatore di 12V 2A. Grazie a tutti.